Si è giocata ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice del Sunset Sport a Santa Maria di Castellabate, una simpatica sfida di calcetto post-pandemia. Si sono affrontate due squadre, da un lato quella dei politici, dall'altro quella dei dipendenti comunali di Castellabate. L'evento è stata una sfida per lanciare un messaggio di ripartenza e speranza dopo i mesi difficili della pandemia. È una simpatica sfida che è stata lanciata da Luigi Maurani, il nostro giovane consigliere comunale d'opposizione, al ragioniere dottore Rizzo, che ha accolto subito questo invito, questo quanto simbolico di sfida. Noi ne abbiamo approfittato e soprattutto abbiamo fatto in modo che questa giornata diventasse realtà. Scusami Marco, come sei in banchina? Sono in banchina perché il ruolo che mi hanno dato è quello di direttore tecnico, quindi dovrei sostanzialmente essere l'allenatore di questa squadra, a quanto pare. Le maggioranze e le opposizioni sono uniti per fare la stessa squadra? Sicuramente è così, però in realtà chi vince vince va bene lo stesso, tanto vince il comune di Castellabate, perché lo spirito di questa giornata è quello di creare armonia in un momento, voglio dire, così difficile, sperando che questa non sia l'unica partita che noi tutti quanti organizzeremo, tutti quanti insieme. E dobbiamo sostenere anche le quote rosa, anche a giocare a calcio naturalmente, sia dalla parte dei politici che la parte dei dipendenti comunali. Come mai non giochi? No, io non sono appassionato, il calcio non mi ha appassionato mai, però mi piace assisterlo, mi piace organizzarlo. No, io faccio la riserva ancora, devo giocare ancora, gioco dopo, quindi mi hanno messo di riserva, non mortificale, quindi voglio evitare di mortificale. Sandro, com'è andato il primo tempo? Benissimo, per quanto non giocavo da parecchio, però ci siamo mantenuti costanti e partecipi in tutte queste fasi della partita. E per mandare un messaggio di ripresa e di rinascita per il territorio e per il comune, ci stiamo divertendo e quello è l'importante. Quanto è il risultato? 6 a 5. Per noi, però oggi vi dico una cosa, oggi per la prima volta mi sono sentito vecchio. L'abbiamo vinto, l'ottimo, l'ingresso di Rizzo però ha dato la spinta come regista della squadra. La partita è terminata con la vittoria dei consiglieri di maggioranza e minoranza, che hanno battuto 10 a 7 la squadra dei dipendenti comunali. Ma alla fine, più che il risultato, quello che è contato è stato il divertimento di entrambe le squadre, con la promessa di una nuova sfida da giocarsi quanto prima.